Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. Sì, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot E-Cockpit. Valido solo per vetture in stock, con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it Ragazzi, ma dove vogliamo arrivare? In un mondo utopico, perfetto, dove non esiste il dolore, dove non esiste l'errore, dove tutto va aspramente criticato, giudicato, per non criticare e non giudicare? Questo. Vogliamo vivere in un mondo di piena moralità, dove è reato anche il solo crescere, perché sbagliare vuol dire crescere. Sto parlando del fenomeno del catcalling. Ragazzi, io non sono uno che fischia le donne. Io non fischio le donne. Non fischio le donne perché se nel 2021 penso di rimorchiare una ragazza fischiandole addosso, o dicendole a bella, o dicendole a mazza che culo, sono un coglione. E se io mi mettessi in testa che voglio fare il catcalling e vado in giro per la strada, incontro a ragazze, faccio un fischio, un abbella, una roba di suo genere, alla decima volta in cui ci prendo un vaffanculo, una coglione e una totale indifferenza, io penso di aver capito e imparato la lezione. Io capisco che sia, che faccia brutto magari per una ragazza che magari cammina in stazione Termini la notte e sente e c'ha paura. Certo, ok. E uno ha anche tutto il diritto di camminare in certe zone se deve tornare a casa a una certa ora. Quindi, però ragazzi, ciò che magari moralmente può dar fastidio non può diventare reato. Ma non perché io ce l'ho col catcalling, ma perché altrimenti canzoni come questa, il fan chitarro, sarebbero da bandire. Perché questo brano dice, tipa, permetti una parola. E c'è un fischio di mezzo. Questo brano qui, in questo brano qui, J-Hax, raffigura esattamente questo. Lui che passa in macchina, passa in finestrino e fa, tipa, permetti una parola. Sai che c'hai una camminata che c'ho il cuore in gola. Che tu sia sola, lo sai, è un peccato, ce l'hai un minuto. Oh, guarda, non mordo, dammi uno sguardo. Ok, ragazzi, perché io mi sono rotto il cazzo? Perché, ragazzi, dietro tutti questi cafoni, a parte che il tamarro è sempre in voga perché non è di moda mai. E io non sono un tamarro e non faccio il tamarro. A mio tempo lo sono stato. E a parte che mia nonna e mio nonno si sono fidanzati perché mia nonna con l'alsema era ancora oggi, dice, di Vincenzo mi ha fatto innamorare il fischio. Ma se erano altri tempi, a me non me ne frega un cazzo dei miei nonni. Odio quella generazione, me ne frega niente. Però io quello che voglio dire è che il ragazzo che abbassa il finestrino, guarda una ragazza, la fischia e gli dice, tipa, permetti una parola, è un ragazzo che dice, guarda, non mordo, dammi uno sguardo. È un ragazzo solo. Ecco che cos'è. Quindi io quello che voglio dire è che non sto giustificando. Io sto guardando un'altra fetta. Perché non dobbiamo manco fare come il faina che vuole scandalizzarsi, fa il delirio. Ok, però ragazzi, fermiamoci un attimo. Non stiamo a giudicare tutti quanti. Io sono d'accordo con Cruciani quando dice, io non dico parole come frocio di merda. Però se qualcuno sente di voler dire, sia libero di dirlo. Sbaglia. Ma è libero di dire quello che vi pare. Io sono d'accordo con lui. Ognuno può dire quello che gli pare. Se poi dice una cazzata, dice una cosa sbagliata, sono cazzi tuoi. Ma ragazzi, ognuno deve essere libero. Libertà di espressione, libertà di pensiero. Ma pure sto fatto della violenza. Perché? Cioè, quindi se io picchio una persona, l'ammazzo di botte, la massacro. Va bene, reato di percosa. Se quella persona è omosessuale, reato di percosa ad omosessuale. C'è l'aggravante. Perché? La violenza è violenza. Cioè, noi non insegniamo a una persona ad andare contro la violenza in questo modo. Perché una persona che commette atti di violenza deve capire che la peggior violenza la sta facendo a se stesso. Nel momento in cui commette violenza. Capite cosa intendo dire? Tipa, stop. Con me non devi fare la snob. Dai, salta su, sulla jeep. Sentirei il profumo dei miei arbre magique. Come Bersani sono un freak. Tarro e t'atterro con lo sguardo. Sono trash come Lamarini e Adriano Pappalardo. Io sono quello che impennava con il ciao. Con la maglietta degli squallo l'arrapao. Quello che rimpiange. La sella con le frange. La targa Arizona. E la marmitta proma. E l'adesivo dei kiss. E di bom Marley. Il motorino. Che fa casino come un Harley. Io sono un porco. Sono un balordo. Faccio rime giù in città. Senza pudori. Ne riguardo. Sono un fan chitarro. Cioè capite quello che ho visto a D. Questa canzone. Una piccola opera d'arte. Una canzone spettacolare per quel mondo. Per quello che voleva dire l'hip hop in quegli anni. Ed è stata cantata da decine di persone. E quindi riconseguenza. Non possiamo bandire il fan chitarro. Non possiamo renderlo reato. E' chiaro che il fan chitarro. E' ignorante. E' cavone. E' grezzo. E' uno stronzo. Ma io non lo posso bandire. Cioè è più forte di me. Mi dà fastidio. Ragazzi io vengo comunque da una città di provincia. Ce l'ho pure io in periodi in cui. Mi dà fastidio. Cioè se tu esci con una ragazza. Nella città di provincia. Senti. Oh ma che stasci. Ti sei rifatto i soldi. Uh vai. Vai mozo. Capite l'andazzo. Ragazzi è un putiferio. E si chiama cafoneria. Si chiama ignoranza. Fa parte del mondo. Allora combattiamo l'ignoranza. Riapriamo i teatri se vogliamo fare la cultura. Riapriamo i cinema. Facciamo più attività culturali. Che danno la possibilità alle persone di modernizzarsi. Di crescere. Di capire. Perché è una persona che ha cultura. Non è che cammina e fa il fischio a una ragazza. Che magari è una borina di turno. Gli piace pure. Ci stanno. Una piccola fetta. Ma ci stanno. Piccolissima. Non sto a dire. Però cioè. Ragazzi. Ma di che stiamo a parlare? Ma veramente vogliamo. Vogliamo trasformare. A questo. Ma veramente. Poi una persona che cilonizza sopra. Riceve la shitstorm. A me non me ne frega niente. Cioè magari domani mi sveglio. Ho ricevuto la shitstorm. Perché sto dicendo che. Devo essere libero. Di fischiare una ragazza. Ragazzi io non. Penso di non aver mai fischiato una ragazza. Penso. Ma non credo che io mi ricordi. Forse magari da ragazzino per giocare. Ma non credo che si sia qualcuna. Qualcuna si sia sentita offesa. Cioè. Quello che voglio dire. È che adesso vogliamo creare questo mondo. Dove bisogna eliminare tutto ciò. Che può far male. Che può far soffrire. Ragazzi. Le sigarette fanno venire il cancro. Però. Io vedo ragazzi di vent'anni. Che se ne fumano 45. Al giorno. Perché non le togliamo. Fanno male. Fanno male. Fanno malissimo. Così come fa male un insulto. Così come fa male. Allora che dobbiamo fare. Nelle scuole. Purtroppo. Il bullismo. L'attaccarsi. Ci sta. Fa parte della sincerità dell'uomo. Che dobbiamo fare. Uno deve farsi pure le spalle forti. Stiamo crescendo una generazione di rammolliti. La percossa. La violenza. È sbagliata. È sbagliata a priori. E non serve targettizzarla. Nel momento in cui. L'attacco diventa violento. Diventa persecutorio. A lì si deve intervenire. Nel momento in cui. Qualcosa. Fa soffrire. Bisogna cercare di capire. Di aiutare. Ma tu non puoi trasformarlo in reato. Perché trasformare in reato. Una cosa del genere. Vuol dire. Dire. Chi fa bull. Chi fa bullizzare. Ma chi è che fa bullismo. Un altro ragazzo di 12 anni. Che ha i problemi suoi. E che va educato. Non va criticato. Non va attaccato. Altrimenti. Cioè. Rendere reato. Una cosa del genere. Vuol dire. Prendere la persona. E sbatterla in galera. E punirla. E il sistema della detenzione. Non è un sistema che funziona. E questo è il discorso. Il fan chitarro. È una canzone meravigliosa. Che ci racconta. Un grande disagio. Il disagio di quello che passa per il cattivo. Di quello che si veste in maniera diversa. Dici. Io sono sporco. Sono un balordo. Ho donne sparse per l'Italia. Poi vabbè. Colpisco e scappo via. Ma con ognuna ho fatto un pianto. Il pianto puro che la tua. C'è la provocazione. È provocatorio. Mi metto a petto nudo nel musical. Non sono beautiful. Ma c'ho il physique du role. E faccio a gara. Alle giostre col pungible. Come faceva Terence Hill. O l'orologio di Topolino. Non voglio neanche sollevare questioni o polveroni. Io voglio solo dire a questo mondo che come c'è il male c'è il bene. E l'oppressione non porta a nuovo bene. Porta solo a nuovo male. La ragazza che si sente offesa ha diritto di sentirsi offesa. Io la capisco. E dobbiamo lavorare però sulla ragazza affinché abbia abbastanza autostima da non sentirsi offesa per un fischio. Se quel fischio poi diventa violenza allora bisogna lavorare su chi commette la violenza. E bisogna condannare, giudicare. Ma ragazzi se sei a posto con te stesso un fischio non ti fa paura. Al massimo ti strappa una risata. Perché chi ti fa un fischio è un povero coglione pieno di scazzi. E a me mi fa più pena un poveraccio come Erfaina che per rialzare due soldi deve fare il pagliaccio ogni giorno. Che è un'aurora ramazzotti. Che nella vita c'aveva avuto tutto. Compresi i problemi derivati dall'avere tutto. Ma che a pane e moralismo ha fatto una propaganda. Ah che non vi dico. Lasciamo sta va. Lasciamo sta ste cazzate.